Buongiorno ragazzi, forse da questa settimana riuscirò ad essere più attiva sul canale quindi spero di riuscire a pubblicare nuovamente due video a settimana mi sono svegliata da poco, come si può ben vedere dalla mia faccia devo ancora andare a mettermi tra l'altro la crema giorno, crema contorno occhi però prima voglio fare colazione assolutamente per darmi la svegliata definitiva e quindi farò il cappuccino e poi non so cosa mangiare per colazione perché ieri abbiamo fatto la spesa io ultimamente la mattina sto mangiando tre fette biscottate, quattro fette biscottate con la cioccolata e ultimamente sto mangiando questa, la nocciolata, crema al cacao e nocciole che è super buona però ieri mi sono dimenticata di prendere le fette biscottate abbiamo preso un po' di biscotti, un po' tipo un pacchettino però le fette biscottate non le ho prese quindi mi sa che devo mangiare i biscotti per forza perché non ho altro ho preso poi i soliti biscottini tipo baiocchi per quelli di solito li mangio merenda ho preso anche dei wafer però per colazione preferirei dei biscotti cioè in realtà preferirei le fette biscottate ma non ce le ho quindi biscotti queste sono le cose che ho preso ieri questi biscotti li avevamo già in casa però ancora non li abbiamo mangiati sono della misura con questi e con questa marca ci troviamo benissimo questi sono senza zuccheri aggiunti ai cereali però ripeto non li abbiamo ancora provati ieri siamo stati tentati da questi che sono in realtà i nostri biscotti preferiti con cacao e riso soffiato abbiamo preso una confezione per averla quando vogliamo qualcosina di più goloso e poi ho fatto scorta dei galbusera integrali che sono tipo appunto dei baiocchi con la crema alla gianduia ne prendo sempre parecchi quando vado perché all'interno ci sono soltanto quattro confezioni piccoline e di solito una confezione al giorno quando per merenda va e quindi abbiamo fatto scorta poi abbiamo voluto provare a prendere questi wafer senza zuccheri aggiunti anche questi con crema al cacao sempre di galbusera non li abbiamo mai provati ma sinceramente mi ispirano parecchio e poi sempre di galbusera perché siamo andati praticamente solo su questa marca abbiamo preso anche questi che non li abbiamo mai provati il riso su riso praticamente una barretta al riso ricoperta di cioccolato anche questa mi sa che è una bontà tra l'altro mi sono accorta adesso di aver quasi finito anche lo zucchero noi facciamo colazione quindi nel cappuccino o nel caffè anche se in realtà si beve il caffè senza zucchero però nel cappuccino mettiamo sempre lo zucchero di canna ne è rimasto poco e non l'ho preso mi sono dimenticata anche di questo molto bene il cappuccino pronto e comunque questo l'originale della dolce gusto resta assolutamente il mio preferito già ne ho poco l'ho pure fatto cadere andiamo bene guardate quanta schiuma che fa davvero come il cappuccino che si prende al bar cappuccino pronto e alla fine ho deciso di assaggiare questi qua quelli ai cereali vediamo un po' come sono buoni devo dire che mi piacciono sono biscotti secchi però quel biscotto secco noioso che stufa questo è molto buono tra l'altro oggi volevo farvi vedere un po' condividere con voi una mia mattinata tipo anche perché poi questo pomeriggio verrà qui mio papà mia mamma e continueremo a posare il pavimento non so se avrete già visto il video dedicato al pavimento prima di questo oppure se dovrà ancora uscire in caso ve lo linko qui altrimenti lo vedrete spero nei prossimi giorni stiamo appunto andando avanti ma a tempo perso quindi ci stiamo mettendo un attimino di più del previsto diciamo siamo circa a metà e quindi appunto oggi verranno ad aiutarmi insomma continuiamo e quindi ho pensato di farvi vedere una mia mattinata tipo tra l'altro ho fatto andare una lavatrice perché l'altro giorno gioia non è stata molto bene non so come mai forse perché mangia i sassi o comunque si granocchia i sassi quindi si disturba un po' il suo stomaco ha fatto vomitato leggermente sulla cucetta quindi l'ha sporcata l'ho buttata in lavatrice però in certi punti è rimasta ancora sporca quindi l'ho lavata a mano e adesso per dargli la pulizia finale l'ho rimessa in lavatrice già che ho lavato anche quella di moca anche se in realtà non hanno una cucetta personale ma se le scambiano a piacimento quindi sta andando anche in lavatrice si è interrotta la videocamera perché sto avendo anche problemi con la memory card dopo un po' qualche minuto di registrazione a volte capita che si blocca mi registra il file però me lo interrompe automaticamente stavo dicendo appunto che ho fatto la lavatrice però adesso ho perso il filo del discorso non mi ricordo più cosa volevo dirvi ho dovuto rivedere la clip che ho appena registrato perché avevo completamente perso il filo del discorso vi stavo parlando delle cucette sono appunto in lavatrice insieme ad altre cosine sempre loro loro peluche quant'altro e quindi già una lavatrice stamattina è andata ho anche finito di stenderla lavatrice che invece è andata ieri ma ancora non avevo steso perché ho sbagliato qualche impostazione e è tipo andata per quattro ore la lavatrice non so che cosa abbia schiacciato fatto sta che ha finito tipo alle due e mezza di notte quindi sono andata semplicemente a svuotarla dalla lavatrice ma non l'ho stesa e l'ho fatto stamattina anche se le cose sono rimaste profumatissime tra l'altro sto utilizzando un ammorbidente che mi fa impazzire della coccolino buonissimo e quindi insomma stamattina pensavo di farvi vedere appunto una mia mattinata tipo quello che faccio quando sono a casa e non devo andare a lavoro quindi mi prendo un po' la mattinata con più calma e come avete visto adesso ho fatto la mia colazione finisco il cappuccino tra l'altro oggi c'è una giornata bruttissima piove nuvoloso e stiamo anche svuotando la piscina abbiamo iniziato a svuotarla sabato pomeriggio circa verso le 3 e ancora adesso si sta svuotando e non abbiamo mai interrotto appunto lo svuotamento quindi è passato un giorno e mezzo e ancora non si è svuotata la piscina è grossa perché contiene circa 30.000 litri e quindi insomma ci vuole un po' per svuotarla penso che magari entro sera barra domani forse sarà quasi del tutto svuotata tra l'altro poi dovremo andare a fare una cosa non so se vi ricordate che si era bucata che si era bucata quando l'abbiamo montata ci siamo accorti che c'era un piccolo buchino quindi avevo contattato il centro di assistenza e mi avevano detto che mi avrebbero mandato il telo nuovo però cosa devo fare? Devo andare a ritagliare il seriale scattare una foto e fargliela avere quindi tagliando il seriale si danneggia completamente tutto il telo quindi prima di farlo voglio avere la conferma da loro che effettivamente mi spediranno poi il telo nuovo perché altrimenti l'anno prossimo non abbiamo la piscina perché la svuotiamo visto che alcune di voi me l'hanno chiesto perché è davanti al nostro garage e quindi finché è estate le giornate sono belle le macchine le lasciamo fuori senza particolari problemi ma quando arriva il freddo che le macchine si ghiacciano durante l'inverno insomma non ci piace l'idea di tenerle fuori quindi avendo il garage vogliamo sfruttarlo e quindi togliamo la piscina quindi abbiamo fatto anche quello adesso vado in bagno finisco il colazione, vado in bagno poi mi lavo il viso e faccio vedere quali sono i prodottini che sto utilizzando in questo periodo ed ecco qua tutti i prodottini che sto utilizzando la mattina o la sera per prendermi cura della mia pelle ormai saranno circa tre settimane abbondanti quasi un mesetto che li sto utilizzando e mi sto trovando davvero super bene in realtà sono sempre stata un po' attitubante su questi prodotti che sono di Hello Body perché su Instagram sono iper super mega recensiti da tantissime ragazze e quindi ero un po' sul chi va là insomma ho detto boh saranno davvero ottimi i prodotti perché quando vengono recensiti così tanto poi non si sa bene se effettivamente sono dei prodotti buoni oppure se vengono definiti buoni soltanto insomma perché sono da recensire era da un po' di tempo che mi scrivevano mi chiedevano di provare i loro prodotti e di farli vedere su Instagram però ho sempre rimandato questa cosa perché non ero convinta invece sono davvero pazzeschi questa non è una sponsorizzazione ve li faccio vedere proprio perché mi trovo benissimo io mi trovo stra bene con la linea coco quindi la linea al cocco utilizzo la mattina e la sera coco fresh che è un detergente, una mousse che utilizzo per lavarmi il viso poi c'è sia la crema giorno che la crema notte che utilizzo sempre 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 crema contorno occhi la sera utilizzo questa la coco smooth mentre la mattina utilizzo questa qui la cara look che è una crema contorno occhi illuminante e va leggermente anche a coprire un pochettino le occhiaie appena appena perché comunque è leggermente colorata e poi mi piace tantissimo anche il loro siero il coco gold che utilizzo mattina e sera poi non può assolutamente mancare il tonico sapete che mi trovo benissimo con i prodotti di skin care di pixie adesso sto utilizzando questo al retinolo il mio preferito è il tonico il glow tonic quindi il tonico illuminante però ho voluto provare anche questo tra l'altro l'avrò iniziato tipo da dieci giorni e guardate non dico che sono quasi a metà ma poco ci manca anche questo il tonico lo utilizzo sia la mattina che la sera è proprio una routine che mi sono fissata di seguire per bene infatti non mi sono più comparsi i brufoletti cose strane cose che invece precedentemente mi succedeva in realtà poi ci dedico 5 minuti la mattina e 5 minuti la sera niente di più quindi una cosa comunque super veloce adesso vado ad utilizzare tutti questi prodottini non sto a farvi vedere tutto poi mi trucco e spacchettiamo insieme un pacchettino super che mi è arrivato ancora la settimana scorsa ma che ancora non ho spacchettato perché volevo farlo insieme a voi è pazzesco ho preparato la postazione così adesso posso spacchettare insieme a voi questo pacco perché mi incuriosisce un sacco piccolo spoiler ora sono decisamente più presentabile perché mi sono dato una truccatina e mi sono anche tolta il sigama anche se in realtà sotto ancora i pantaloncini ma fa niente come avete visto dal piccolo spoiler di poco fa è arrivato un nuovo aspirapolvere senza filo che sono curiosissima di vedere subito all'opera iniziamo a spacchettare e vediamo un po' l'aspirapolvere è questo qui assomiglia tantissimo al Dyson ed è tutto bianco vediamo se riesco a farvi vedere senza distruggere ancora prima di utilizzarlo il libretto di istruzioni ci sono tutti gli accessori confezionati singolarmente questa è la scopa che dopo apro meglio qui abbiamo il bastone qui c'è qualcos'altro questa immagino sia la base come vi ho accennato prima la fotocamera ha qualche problemino infatti ha smesso di registrare io nel frattempo avevo già spacchettato tutto sono già andata a togliere anche tutti i cellofan dai vari accessori e stavo terminando comunque è bellissimo adesso lo vado ad assemblare cerco di capire insomma come si compone anche se non dovrebbe essere difficilissimo e poi ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore questo è il bastone che presumo si agganci così no così ok e il primo pezzo è andato e siamo arrivati all'ultimo pezzo ovvero l'aspirapolvere vero e proprio andiamo a fissarlo ecco qui vediamo se va già ok è già partito è già carico si vede dopo magari controllo il caricamento si è caricato al massimo e questi sono tutti gli accessori quindi c'è la base per fissarlo al muro ci sono altri accessori devo studiarmi di capire bene come utilizzarli comunque c'è questo aspirapolvere più piccolino poi c'è questa piccola prolunga piccola piccola tanto guardate che cosa pazzesca si allunga e è molto flessibile poi c'è poi ci sono questi due io di solito questo accessorio lo utilizzo per aspirare sopra il battiscopa negli angolini più critici e poi c'è questo qui un pochettino più grande con le sitoline adesso lo metto a caricare lo faccio caricare al 100% perché secondo me di solito almeno non arrivano completamente carichi e poi in questi giorni inizio ad utilizzarlo sicuramente già da oggi comunque guardate lo trovo davvero bellissimo bellissimo pazzesco l'ho appena messo in carica e come vedete segnala il caricamento siamo al 37% quindi ha bisogno di di essere caricato è quasi ora di pranzo perché sono le 12.45 anzi probabilmente per qualcuno l'ora di pranzo è anche già passata non so cosa farmi per pranzo però prima di di pranzare voglio voglio devo scaricare la lavastoviglie perché ieri sera l'abbiamo fatta andare però ancora non l'ho scaricata devo caricarla poi con le cose che ho utilizzato stamattina per fare colazione sia io che la tazzina che ha usato ste e dopo voglio pulire il mobiletto qui della sala e il tavolo ultimamente sto utilizzando un prodotto di lisoform nuovo ve lo faccio vedere e devo dire che mi sta piacendo parecchio ed è questo qua il lisoform senza risciacquo igienizzante universale questo qui non l'avevo mai provato questo è ottimo sia sugli oggetti che utilizzano i bambini che nelle zone dove si cucina infatti lo utilizzo sia per pulire il piano della cucina l'isola però sono sincera lo utilizzo anche sul tavolo della sala da pranzo senza nessun problema quindi adesso faccio questa pulizia super veloce poi faccio andare il robottino che mi pulisce il pavimento e dopo nel pomeriggio devo prima che arrivino i miei devo registrare un altro video quindi sono un po' piena oggi di cose da fare un po' piena Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.